Ente pensiero Magister, attraverso Guglielmo, a cura di Roberto P., domanda Quindi quando un ente pensiero prende una individualità umana, lui ha dentro di sé non solo le esperienze fatte precedentemente da lui come ente pensiero incarnato, ma in un certo senso si porta dietro anche quelle di tutto, il suo gruppo. Magister, immaginiamo un gruppo. Nel gruppo convergono infinite esperienze che non numeriamo ma veramente infinite e queste esperienze formano la unità persistente del gruppo nell'ambito della presenza costante di Dio. Ad un certo punto da questo gruppo si proiettano manifestazioni dimensionali, ma le manifestazioni dimensionali, che possono essere indubbiamente contemporanee e diverse, ma anche viventi in dimensioni e in tempi diversi, partecipano sempre del gruppo. Non sono mai staccate dal gruppo, restano in esso e sono lontane da esso e questo è il punto più difficile da capire. Gruppo, anima e corpo sono tre cose diverse, eppure sono la stessa cosa in maniera perenne, indiscutibile. Quindi voi partecipate sempre, non solo all'esperienza del vostro gruppo, ma anche all'esperienza delle proiezioni del vostro gruppo che convivono sul vostro piano e in un piano diverso al tempo stesso. Quindi ecco qui le ispirazioni, ecco qui le illuminazioni geniali, ecco i fatti che accomunano le persone, quello che voi chiamate antipatia, simpatia, repellenza, amore, a prima vista e tutto il resto.